Sentite un po' come comunicavano nella ponte Torghiano? No, no, in generale. Ecco perché sono aiutari? Eh sì lo vedo, nessuno lo vedo, nessuno lo vedo. E già io, niente però è successo. Allora lei sei tutti gli headed qui. Ehi, non è nessunaDI hijca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so i figli dalla montagna, come capissero a chi voleva. Però, insomma, forse qualche differenza c'era. I figli sicuramente avrebbero carito. Ok, facciamo ascoltare il penultimo brano, che è la nostra versione della Talmuriata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.